Ciao, sono Nadia Quagliotto, 18 anni, vengo da Maser, provincia di Treviso. Ok, ti faccio 5 domande. La prima, da che parte hai il cuore? Finistra. Ce lo indichi? Ok. Cos'hai pensato rispettivamente ai meno 5, ai meno 1 e ai meno 100 metri? Sì. E ai meno 5 che dovevo tirare la volata da Alcini, quindi mi stavo preparando psicologicamente per tirare. Poi quando è partita la russa, ho detto, cioè l'ho fatta tirare lei, ho visto che il gruppo era lontano, cioè che avevamo preso abbastanza vantaggio, la incitavo perché tante forze non ne avevo più, non avevo più tante forze. E ai meno 150 metri, 200 metri e continuavo a voltarmi indietro per vedere se il gruppo stava rientrando nel momento che ho visto che ero lì, lì, sono partita. Ho cercato di controllarmi nel non anticiparmi troppo, nel non anticipare troppo la volata perché non conoscevo l'avversaria, quindi non sapevo se era forte in volato o cosa. Quindi ho aspettato i 150 metri per essere sicura, poi lei ha proprio mollato di brutto. Ok. Conosci le parole dell'inno nazionale? Sì, circa. Ma vieni o no? Eh, buh, sì, un po'. Ma ci prometti che per Richmond le imparerai a memoria? Guarda, va bene. Ok. Un tuo giudizio sulla tua compagna di squadra Arrachia dei Barbieri? Positivo o negativo? Scegli tu. Tutte e due, uno positivo o uno negativo? Eh, negativo, è molto pesante a volte, esagera. Vengo troppo pesante con me. Positivo, mi dà consigli utili e mi aiuta spesso in gara. Una dedica particolare? Eh, a tutti. Quelli che hanno sempre creduto in me, a Gian Paolo Barbieri. Eh, a tutti, dai. Un saluto. Ciao. Ciao.